Det match a squadre, eliminate qualsiasi minaccia. Prendiamo il controllo. Così non va. Siamo indietro. Lancia una stordente. Occhio dove spari, pendejo! Sordente lanciato. RCX di nemico rilevato. E' solo una mina di prossimità. Sordente. Atterra. Tiro una granata. Bravo, con una granata. Siamo avanti noi. Inviare aereo spie alle mie coordinate. Aereo spie a ostile in sorvolo sulla zona. Aereo spie a disposizione. Aereo spie a disposizione. Aereo spie al Aereo spie a la zona. Aereo spie a disposizione. No. No. aereo spianerico in arrivo che cazzo spari aereo di controspionaggio aereo spia ostile in solpolo sulla zona aereo spianerico in solpolo aereo spianerico in solpolo aereo spianerico in solpolo spianerico in solpolo aereo spianerico in solpolo aereo spianerico in solpolo aereo spianerico in solpolo approvvigionamento ostile in arrivo abbiamo perso il comando testo Così non va. Siamo indietro. Rapporto. Elicottero di supporto nemico in volo. Approvvigionamento. Siamo in testa. 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 Evacuazione generale. Non doveva andare così. Siamo in testa. Cercino. Siamo in testa. Siamo in testa. Siamo in testa. Siamo in testa.